Tensione alle stelle al cupo dell'Aquila. Ieri c'è stata una riunione in prefettura voluta dalla CISAL dopo il cambio di appalto che per il sindacato determinerà una diminuzione annuale dei salari importante per i lavoratori. Riunione senza esito e dunque potrebbe profilarsi uno sciopero all'orizzonte. Il problema dove sta? Sta che il capitolato e il bando di cara recitano chiaramente che la ditta subentrante può anche adottare il CCNL che vuole ma l'importo che erogherà ai lavoratori non può essere inferiore del minimo tabellare del CCNL del terziario. Tradotto a conti fatti ogni lavoratore perderà circa 6.000 euro l'anno. Poi loro in malafede, in purissima malafede perché se no quando tu fai un cambio d'appalto a pari condizioni non devi regalare, tra virgolette, soldi, gli regalano con un superminimo un circa 1.000 euro annui lordi sempre. Perché? Perché sapevano che così ne stanno risparmiando 5.000. Quando noi abbiamo obiettato tutto questo nessuno ha risposto. Ci dispiace molto perché la firma di un sindacato è pesante. Quindi prima di firmare accordi del genere, e questo lo dico ai miei colleghi, forse le cose vanno ragionate, vanno pensate e vanno studiate bene. Ma non è il solo problema perché l'ASL ha fatto 5 lavoratori un provvedimento disciplinare perché oltre all'orario di chiusura lo scorso 16 marzo non avevano servito alcuni utenti che avevano il numero scatenando tante polemiche. Per il sindacato l'ASL scarica sui lavoratori la propria incapacità organizzativa. C'è anche da dire che prima c'erano dei cartelli nella sala del cupo che informavano l'utenza del fatto che oltre l'orario anche chi era in possesso del numero non sarebbe stato servito, cartelli scomparsi. I lavoratori nonostante questo cercano sempre di accontentare tutti e non si contano gli interventi del 118 di soccorso a persone, soprattutto anziani, che si sentono male a causa delle lunghe file. Questo giusto per far capire la situazione. Ma l'operatore più di fare i salti mortali e dover uscire in sala a dire guardate signori che a fine turno non possiamo servire, non possono fare. Questi si prendono insulti, si prendono le chiamate dei carabinieri, si prendono tutti e il responsabile, il dottor Bisegna, ha detto che quel sabato famoso dove poi è stata fatta la lettera disciplinare ai cinque dipendenti in turno ha deciso che siccome un utente si era andato a lamentare, cosa che succede tutti i giorni, forse quel giorno visto che erano usciti articoli sulla stampa ha voluto far vedere che loro sono forti, ha preteso queste lettere disciplinari alle quali ovviamente ho risposto prontamente, aspettiamo per vedere l'esito.